Btjump, tutore per il ginocchio. Il tutore è impiegato in caso di patologie dell'articolazione del ginocchio come artriti e artrosi o nel caso in cui il cane presenti problemi alla rotula o al crociato anteriore. È utilizzato anche come supporto post-operatorio. Il tutore presenta due tasche laterali che accolgono due stecche di alluminio angolate che limitano il movimento dell'articolazione ove questo si renda necessario. È presente una fascia addominale per garantire la stabilità del tutore ed impedire che questo scenda o ruoti. È disponibile in 5 tagli regolabili. XS per Pinscher, Maltese, Toy, Carlino, Chihuahua. S per Cavalier King, Border Collie, Cocker Spiner, Jack Russell. M per Doberman, Pastore Tedesco, Labrador, Husky. L per Cane Corso, Golden Retriever, Rottweiler e Dogo Argentino. XL per Alano, San Bernardo, Pastore del Caucaso, Mastiff. Le razze consigliate per le taglie sono puramente indicative e fanno riferimento a cani con peso e forma standard. Istruzioni per l'uso. Applicare il tutore sull'articolazione facendo attenzione che il foro presente sul tutore aderisca al ginocchio del cane. Chiudere i tiranti posteriori attorno alla zampa. Avvolgere il corpo del cane con la fascia addominale passando davanti alla zampa opposta a quella del tutore. Infilare la linguetta velcrata nel passante nero e tirare la fascia stringendo bene. Chiudere la linguetta velcrata sulla fascia stessa. Nel caso in cui la fascia addominale risulti eccessivamente lunga si può rimuovere l'estremità velcrata tagliandola ed accorciandola a piacimento. In seguito si dovrà riapplicare la linguetta velcrata. Nel caso in cui la fascia addominale risulti eccessivamente lunga si può rimuovere l'estremità velcrata tagliandola ed accorciandola a piacimento. In seguito si dovrà riapplicare la linguetta velcrata.